del nostro tempo, la nascita delle lobby. Nascono così le lobby che oggi noi conosciamo. Molte persone quando si parla di lobby pensano a delle entità astratte, non si capisce mai chi siano queste lobby. Ci sono i nomi e i cognomi, le lobby sono, per esempio vi faccio alcuni nomi potentissimi, il Transatlantic Business Dialogue, l'Investment Network, il Financial Services Group, il gruppo LOTIS, per non parlare poi delle lobby ebraiche in America, per la questione medio orientale, le guerre, la guerra a terrorismo, etc. A Bruxelles oggi sono registrati qualcosa come 15.000 o 20.000 lobbysti che spendono ogni anno un miliardo di Euro solamente per fare lavoro di lobby, 15.000 o 20.000 persone che rappresentano altrettanti interessi corporativi. Immaginate l'esercito finanziatissimo, come disse Lewis Powell, e fa questo lavoro con un miliardo di Euro all'anno. E quindi queste parole hanno dato l'origine a questo fenomeno che condiziona la vita di tutti i governi, di tutti i paesi occidentali, di tutte le scelte economiche, di tutte le scelte amministrative. Le lobby sono sempre le prime che vengono ascoltate. Il Transatlantic Business Dialogue dà alla Commissione Europea, il supergoverno d'Europa ogni anno, una lista di desiderata e deve ricevere indietro che la Commissione Europea, fa ridere a dirlo, deve ricevere indietro una pagellina dove la Commissione Europea dice su questo abbiamo fatto così, su quell'altro abbiamo fatto così, eccetera, eccetera.